Grazie Claudio, buongiorno, benvenuti anche da parte mia. Io mi chiamo Eugenio Dragoni, sono il direttore del dipartimento, cioè la struttura universitaria che qui a Reggio Emilia offre l'offerta formativa nel settore dell'ingegneria. Parlerò pochi minuti, senza intenzione di quello specifico di quella che è la nostra offerta formativa, ma concentrandomi soprattutto su alcuni aspetti tecnici, se volete anche etici sulla figura dell'ingegnere. Cosa vuol dire? Soprattutto diventare ingegnere indipendentemente dalla rassa dell'ingegneria in cui ci si converte. Intanto dove siamo? Siamo dentro a questo parco che anticamente era l'ospedale psichiatrico di Reggio, adesso convertito invece prevalentemente in campus universitario, oltre ingegneria che occupa questi tre padiglioni, quello rosso dove ci troviamo adesso in questo momento, quello bianco dove ci sono qui dietro, ci sono fondamentalmente uffici e le segreterie amministrative del dipartimento, quello verde con laboratori informatici e tecnici, ma oltre a noi c'è anche un insediamento di ex agraria, dipartimento di bioscienze, e un insediamento della sanità con infermeria. Se frequenterete questo luogo, vi dico subito, è possibile arrivarci oltre che in macchina, c'è una bella schiera di parcheggi che costeggia la ferrovia, la vostra sinistra, ed è possibile arrivarci anche in treno, che tra poco sarà la navetta che collega la stazione Mediopadana, quindi quella di Calatrava, con il campus attraverso una stazioncina, una linea ferroviaria dedicata, che si trova oltre la ferrovia principale, sempre alla vostra sinistra. Cosa offriamo? Due tipi di ingegneria, l'ingegneria meccatronica, l'ingegneria gestionale, a tutti i livelli di formazione superiore che il nostro ordinamento universitario prevede. Voi adesso siete appena usciti, spero, sono finiti per tutti gli esami di maturità, sì, bene, siete nella zona grigia e il nostro compito è quello di prendervi e di portarvi ad assumere un qualche colore nel settore dell'ingegneria, cominciando con la laurea, che chiamiamo triennale, ma il termine giusto è laurea e basta, cui può seguire una laurea magistrale, oltre i primi tre anni, due anni di specializzazione, e infine, per chi vuole approfondire soprattutto gli aspetti dell'innovazione, su cui qui calchiamo particolarmente la mano, c'è anche un dottorato locale nei settori dell'ingegneria. Gestionale e meccatronico. Prima di entrare nei dettagli di cosa significa diventare ingegnere gestionale, meccatronico, e come soprattutto lo si diventa, ne parlerà in particolare l'amico Matteo Vignoli dopo di me, faccio una piccola parentesi sul senso della figura dell'ingegnere in generale. Cosa vuol dire diventare ingegnere e qual è il proprio ruolo nella espressione della figura dell'ingegnere all'interno della società. Per capirlo guardiamo questo lucido che contiene 20 loghi di 20 aziende, ma potrebbe essere popolato da tutti i loghi di tutte le aziende del mondo, forse 20 milioni, non lo so. L'ingegneria è il braccio tecnico del sistema economico che permette alle aziende di raggiungere il loro scopo comune. Queste 20 aziende, tutte le altre loro colleghe nell'ambito del globo terrestre, hanno un unico scopo comune. C'è chi vende Coca-Cola, c'è chi vende auto, c'è chi vende pantaloni, ma sono tutti mezzi per raggiungere uno scopo unico che è quello di produrre profitto, di guadagnare legalmente, legittimamente dei soldi. Chi fa la Coca-Cola probabilmente non gli piace la Coca-Cola, però ha scoperto che la Coca-Cola piace a qualcun altro, svolge un compito che assoddisfa un bisogno dell'umanità e c'è chi è disposto a comprare la Coca-Cola barattandola con i propri soldi in modo che l'azienda Coca-Cola si arricchisca. E così per la Fiat, così per Levis, così per Nissan e gli altri. L'ingegnere è la figura professionale, tecnica, che permette di tenere avviato questo circuito virtuoso, sfruttamento economico, e questa è la sede di questo obiettivo, e l'obiettivo è nelle imprese, ma attraverso le opere della tecnica, costruire qualcosa, sviluppare un servizio, sviluppare un processo, e qui se ne occupano gli ingegneri, gestionali e meccatronici qui da noi, meccanici, elettronici, civili da un'altra parte, ma a beneficio della società. Produrre non serve a nulla se non riusciamo a vendere, se non troviamo qualcuno convinto a darci i suoi soldi in cambio di quel prodotto, quel processo, quella procedura, quel servizio della tecnica che gli ingegneri mettono a disposizione. Visto con un'altra prospettiva il percorso che porta al raggiungimento di questo scopo economico, si può riassumere in queste tre tappe. Ravvisare un bisogno latente o chiaro nella società, sviluppare un prodotto, e per prodotto intendo un prodotto materiale, ma anche un prodotto immateriale, un servizio, un processo, che dà una soddisfazione a quel bisogno, e vendere quel prodotto. Soldi in cambio di un beneficio alla società. Se manca l'uno o l'altro di questi tre elementi, è come togliere la gamba a un tavolino a tre gambe. Non sta in piedi. Non solo una funzione sociale, fare il bene della società, non solo una funzione tecnica, divertirsi a progettare, ed è divertente progettare, non solo andare alla caccia di soldi con metodi magari illegali, ma mettere insieme questi tre fini in modo che alla fine tutti siano contenti e la società si mantiene su un livello diciamo di vantaggio economico, ma anche di beneficio sociale. Vediamo un esempio che riassume l'insieme di queste tre caratteristiche. Qui vediamo un bisogno. C'è una persona in difficoltà che probabilmente è disposta a pagare qualcosa per venire fuori da questo momento di difficoltà o meglio ancora, non trovarsi in questa situazione di difficoltà. prefiguriamo tre situazioni, tre prodotti o servizi, per prodotto intendo sempre anche un approccio immateriale, che permettono di mettere le mani sui soldi di questa persona senza andare lì a approfittare della difficoltà, dargli una botta in testa, sfilargli il portafoglio e intascarci i suoi soldi. Se tutti facciamo così il mondo finisce perché non c'è nessuno che produca un qualche arricchimento sfruttando le capacità dell'ingegno e le risorse della natura, come mettere le mani sui soldi di questa persona in un modo proficuo, cioè in modo che lui sia disposto a darci quei soldi in cambio di un beneficio non trovarsi o uscire da questa difficoltà. una soluzione materiale, con un prodotto materiale, quella che tutti conosciamo, dotare le auto di cosa? Di una ruota di scorta e soprattutto di un cric per poter tirar giù la ruota vecchia e non basta la ruota di scorta e mettere su quella nuova. Benissimo, è la soluzione classica. Pensiamolo per un'altra. Non voglio trovarmi in questa situazione, cosa posso fare? E anche questo sta trovando come prodotto di nuovo una sua linea d'azione nel mercato della tecnica, sviluppare ruote tolleranti al danno. Non dico che non forino, potrei farle di gomma piena, ma le auto andrebbero tutte ai 30 all'ora, non ai 180, di ruote che pur forando permettono ancora di tirare avanti un po' in modo che raggiunga almeno la destinazione o un centro di assistenza. E queste sono due vie materiali che consistono nel tradurre questo bisogno in un prodotto materiale. pensiamone una terza che di nuovo si sta sviluppando sempre di più. Come venire fuori da questa situazione ma in un modo che non debba agire personalmente a trovarmi con l'auto un pochino minorata. Un sistema che chiede aiuto, che mi permette di chiedere aiuto automaticamente o in maniera rapida quando mi trovo in questa situazione. Se guardate la pubblicità recentemente ci sono compagnie di assicurazione che offrono sempre più frequentemente dei sistemi di chiamata d'allarme. quando la macchina si guastasse e quando io forassi e questo approccio sta diventando quasi una norma nel mondo dell'automobilismo. Tra 3-4 anni mi dicono gli operatori del settore tutte le auto dovranno avere un dispositivo automatico di chiamata in modo che quando uno si trova in difficoltà anche per la ruota ma non solo per la ruota forata venga individuato e venga naturalmente in cambio di una qualche cifra che però si è disposti a sborsare volentieri venga prelevato e tirato in salvo. Bene? Quindi diventerete ingegneri spero presto tutti e qui diventare ingegneri vuol dire alla fine rendersi utili a questo processo collettivo non solo progettare e divertirsi facendolo ma divertirsi facendo in modo che qualcun altro guadagni anche noi e ingegneri e che qualcuno ha un beneficio da questo processo di sviluppo e di vendita di un prodotto. Chiudo con un accenno al motivo per cui uno dovrebbe diventare ingegnere in particolare Reggio Emilia. Questi sono i dati riferiti alle penultima statistica ufficiale Alma Laurea il sistema che è nato dall'Università di Bologna ma che adesso è diventato una società che fa delle indagini anche di efficacia del sistema formativo universitario in particolare dell'ingegneria la statistica si è arricchita recentemente di dati addirittura migliore di questi che si riferiscono all'anno scorso bacino 2011 adesso sono disponibili i dati del 2012 ma siamo stabili su questo livello attesa per la prima occupazione dalla data di laurea tra i due e i tre mesi due mesi e mezzo indipendentemente dal fatto che si parli di laurea o di laurea magistrale il tasso di occupazione quanti laureati sono occupati dopo un certo tempo dalla laurea il 98% da un anno dalla laurea triennale il 96% dopo un anno dalla laurea magistrale il 100% non esiste la disoccupazione a meno che uno non voglia non lo voglia proprio quindi cambiando mestiere o decidendo che gli piace fare qualcos'altro ma non so cosa esista di meglio di diventare ingegneri il 100% ha tre anni da ciascuna dei due livelli di laurea e gli stipendi questi numeri qua non altissimi in assoluto uno può sognare che ne so i milioni di euro al mese non ci sono però sono le cifre tra le più alte delle almeno dei salari o degli stipendi nell'ambito del lavoro dipendente che sono almeno dopo tre anni della laurea uguali o appena superiori a quelli della categoria più pagata almeno nel territorio nazionale che è quella dei medici bravissimi che in più hanno le infermiere però le abbiamo anche noi là dietro anzi durante lo studio non solo dopo e quindi sia i soldi sia diciamo il corredo che serve per goderseli va bene? anche gli infermieri naturalmente ce n'è per tutti pari opportunità va bene? quindi ingegneri a reggio ingegneri in generale perché non c'è un'ingegneria fallimentare da questo punto di vista ma qui è un pelino meglio lavoro subito e anche mediamente discretamente ben pagato grazie 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 grazie